la relazione dei suoi genitori ma penso che la relazione tra mio padre mia mamma è un amore di quelli all'antica un amore enorme un grande amore perché mio padre mia mamma ha avuto come fidanzato marito e sposo soltanto a mio padre quindi ha avuto soltanto un uomo nella sua vita si sono amati per tantissimi anni mia mamma quando ha conosciuto mio padre era piccola stava studiando ancora doveva finire il liceo si sono fidanzati e quindi hanno sono stati insieme per una vita mia mamma ha dovuto lasciare gli studi insegnava lei era diventata professoressa perché la volevano proporre al confino perché la fidanzata con mio padre quindi mia mamma ha scelto la vita di stare con suo marito dell'amore della sua vita da quando ha deciso fino al giorno in cui è morto è tuttora è sempre ancora devota a questo grande amore che è stato il loro la loro vita insieme quando hai capito per la prima volta chi era suo padre? ma per dirti la verità non l'ho mai nel senso noi siamo nati tutti io sono il terzo dei figli noi siamo nati i primi tre figli siamo a distanza di 14 mesi l'uno dall'altro quindi bene o male si può dire che noi i primi tre eramo i gemelli nel senso che a distanza di 14 mesi mia sorella aveva tre anni quando sono nato io siamo nati in una situazione di si può dire di emergenza si può dire di latitanza come la vuoi chiamare in una situazione molto particolare non normale per dei figli o dei bambini quindi a noi non ci hanno detto mai niente abbiamo capito sempre tutte cose noi non so è difficile da spiegare da poter far capire alle persone noi siamo nati in una situazione particolare ma eravamo già impegnati questa situazione è come se una cosa che anche noi siamo nati in una situazione non c'era bisogno che nessuno ci spiegava nulla quindi non c'era bisogno la cosa è stata talmente naturale che non c'è stato bisogno di dire o mia madre o mio padre di darci spiegazioni in merito a queste situazioni di latitanza di di distrettezza e di di trasferimenti anche perché ci capitava spesso a volte di doverci trasferire senza un motivo e quindi nessuno aveva bisogno di spiegare niente perché noi già sapevamo non è difficile da spiegare però è una cosa che nasce dentro di te capito e questa cosa era nata dentro di noi dentro di tutti noi che non c'è stato mai motivo di da parte di mia madre o di mio padre di avere spiegazioni abbiamo capito sempre tutto quando penso a suo padre oggi era papà o era totorina di tratto dai media media no io ho sempre non solo oggi ma anche nel passato ho sempre pensato che mio padre era mio padre totorina il mio totorina il mio padre non il totorina dei media o delle cose che si raccontavano perché per me è stato sempre mio padre al di fuori di quello che si diceva o di quello che per cui lo etichettavano quindi con quei nomi nomignoli anche con soprannomi pure però per me è stato sempre mio padre punto e basta descrive suo padre come un uomo con debolezze i sentimenti propri puoi per favore spiegarci ma penso che la debolezza più grande di mio padre era l'amore verso la sua famiglia quindi questa questa era la sua più grande debolezza sicuramente come tutte le persone aveva avuto dei pregi e dei difetti però di debolezze io non non potrei raccontarti nessuna debolezza se non che è quella come ti ho detto veramente di avere di essere innamorato della sua famiglia amare la sua famiglia fino all'ultimo giorno della sua vita perfetto quali sono alcuni principi fondamentali che la lui ha insegnato come uomo ma sì